buonasera buonasera direi a tutte questa volta si può dire il solito si dice a tutti a tutte invece questa volta a tutte e siamo qui per l'ultima l'ultimo talk del public program legato all'opera di norma jean che è l'opera che avete alle vostre spalle vi ricordo per chi non l'ha vista dall'inizio è un'opera processuale norma jean un artista dall'identità collettiva naturalmente uno pseudonimo l'opera era un cubo e si è progressivamente distrutta disgregata e adesso è il cratere di pongo che vedete che poi viene continuamente generata e rigenerata e riconfigurata da quest'idea appunto del dell'identità collettiva abbiamo costruito cioè dell'artista come identità collettiva abbiamo costruito questo piccolo pag piccolo ma importante public program di tre puntate abbiamo avuto per la prima resa aficina spero di pronunciarlo bene comunque uno dei curatori del collettivo ruangrupa che ha curato come sapete l'ultima documenta a castle l'anno scorso e per il secondo la seconda per la seconda puntata la seconda serata abbiamo avuto jordan anderson por por marcasciano moderati da carlo antonelli sui temi diciamo dell'identità anche di genere sulla fluidità di genere e questa sera siamo molto contenti di avere con noi serghei canzedal pronuncia giusta ok serghei canzedal che è un curatore è un critico e curatore nato in ucraina e ma che vive a milano da dal 2015 che lavora diciamo sta lavorando con la associazione barriera di torino che un'associazione di collezionisti di arte contemporanea ma che a milano sta portando avanti un progetto molto interessante di di residenze artistiche alla fabbrica del vapore che si chiama how do you dare how you dare come ti permetti un progetto appunto con artisti ucraini artisti provenienti appunto dal suo paese avremmo dovuto avere con noi anche regime sahakian del collettivo sada di un collettivo iracheno purtroppo per motivi personali suoi speriamo nulla di grave ma crediamo di no non è potuta essere con noi si sarebbe dovuta collegare comunque da da new york ma insomma si scusa per non per non essere presente il tema di cui parleremo questa sera con qui da questo punto con sergei è il come diciamo in qualche modo la pratica artistica reagisce viene influenzata o in qualche modo interagisce con determinate circostanze critiche naturalmente in particolare il conflitto quindi la guerra e in particolare visto che appunto abbiamo questa sera solo sergei ci concentreremo sul chiaramente sulla guerra che c'è nel suo paese e che purtroppo tutti come dire conosciamo e quindi come cambia come viene in qualche modo influenzata la pratica degli artisti e come anche in qualche modo può intervenire in questo contesto così difficile il concetto di collettivo di collettività e quindi la rete no il network tra gli artisti che è un po un po credo il tema del del suo lavoro naturalmente con noi c'è katia nozzeva che è la curatrice per l'arte contemporanea di mudec katia come sappiamo sono avviene invece dalla russia ma ha abbandonato purtroppo la russia perché per fortuna o per fortuna ma insomma vabbè ha dovuto abbandonare la russia perché comunque spesso non non si pensa ma anche voglio dire i russi cioè sono contro la guerra no cioè la popolazione sono non è che è tutto così così semplice e quindi lei ha dovuto abbandonare appunto il paese e sta come dire cercando di portare avanti oltre che la sua vita il suo lavoro in italia siamo molto contenti di averla di averla con noi katia curerà sta curando diciamo assieme poi a tutto il gruppo curatoriale di mudec di arte pubblica insomma tutto il nostro gruppo coordinato da marina pugliese una mostra la mostra rainbow che aprirà il 16 cioè c'era l'inaugurazione il 16 di febbraio e quindi dal 17 febbraio potrete vedere questa mostra molto interessante da io appunto direi che ho fatto introduzione no ho detto quello che dovevo dire no e vabbè comincio comincio io se sei d'accordo katia a chiedere un po a serghei intanto grazie per essere per essere venuto qua e chiederei a serghei di raccontarci un po la sua la sua storia in breve se vuoi insomma se se ritieni opportuno il fatto perché sei venuto qui perché chiaramente vabbè noi non meno io non lo sapevo ma insomma la guerra in ucraina in realtà è frutto di un processo ahimè cominciato diversi anni prima e quindi ci sono stati anche delle spostamenti prima dello scoppio proprio della guerra no e poi di come diciamo stai portando avanti questo progetto di residenze con gli artisti con gli artisti ucraini e di come in qualche modo anche la produzione degli artisti può essere o non essere cambiata rispetto a questa situazione difficile sì grazie grazie per per l'invito mi fa molto piacere insomma essere qua e poter parlare al nome del della mia scena artistica no di cui insomma in qualche modo sono sono rappresentante io sono di origine ucraina però vivo in italia del 2015 e quindi insomma nel momento 24 febbraio quando iniziata insomma l'invasione dell'ucraina da parte della russia mi trovavo mi trovavo qui per fortuna ero in un posto sicuro e insomma avevo anche possibilità di insomma non solo di stare tranquillo ma anche di aiutare appunto le persone della della mia comunità sono venuto qua nel 2015 per motivi diciamo professionale che è personale non erano legati a situazione sociale politica nel mio paese che comunque a quelle cose si sono iniziate a agitare punto a partire dal 2000 dal 2014 però ho sempre pensato che vivere e c'è essere un curatore ucraino in italia ti mette una situazione un po un po strana da una parte le persone si aspettano che tu rifletta sulla tua identità nazionale che nella tua pratica che alla fine è il tema diciamo principale che poi come un filo rouge attraversa tutti questi avvenimenti insomma sociali politici che appunto dal 2014 stanno stanno accadendo però dall'altra per essere interessante tu devi anche essere in qualche modo in grado di uscire dalla tua località no e del motivo per cui ho lavorato sempre con artisti e artiste ucraine italiane internazionali senza fare una distinzione necessariamente una distinzione cioè non avevo non sentivo la necessità almeno fino al 24 febbraio di rimarcare questa cosa poi le cose sono cambiate radicalmente nel senso che il peso il peso della responsabilità politica di lavorare con gli artisti ucraini è diventato molto è diventato molto molto sentito ovviamente e io come altre persone che appunto si trovavano non erano lì sentivano il bisogno di poter di poter fare qualcosa di poter dare voce no a questa a queste a queste persone e insomma per fortuna ho anche avuto diciamo questa mi è stata data questa opportunità no di questa residenza che sto facendo sto facendo qui a milano che nasce come dire in risposta a alla crisi no e che insomma dato possibilità non solo di accogliere le persone di artiste soprattutto donne di creare una condizione per dare la possibilità loro di lavorare in modo sicuro ma anche di riflettere su quelle che sono diciamo delle tematiche insomma che riguardano questa questa situazione di insomma di conflitto ecco e quindi questa residenza così come anche questa discussione la vedo un po come parte diciamo di questo di questo mio compito no cioè quello di cercare in qualche modo di portare attenzione su su una situazione che ha come dire alla base una una proliferazione di violenza che poi insomma conosciamo tutti molto molto bene ecco e penso che ognuno lo faccia un po in base a quelli che sono i suoi le sue capacità e diciamo attitudine no al lavoro allora tu hai detto che adesso stai lavorando con gli artisti che sono qui a milano tante di loro sono scappate dalla guerra eccetera allora tu sei davvero vicino a loro pratica artistica anche al loro modo di vivere quotidiano è a questo punto ti vorrei chiedere se parliamo un po perché questo soggetto che mi interessa davvero cosa succede con un linguaggio artistico durante la guerra durante o insieme a circostanze critiche che porta alla guerra secondo secondo te in queste in queste circostanze la pratica una pratica artista gravita o deve gravitare sempre verso l'attivismo o forse tu vedi delle strategie diverse quando questa pratica artistica si ritira piuttosto in una pratica strettamente intima quasi invisibile eccetera allora le relazioni tra l'attivismo e tra la pratica piuttosto chiusa concentrata su se stesso individuale allora come vedi tu queste relazioni allora parlerò appunto un po nello specifico di come artisti artisti ucraina hanno reagito a questa situazione perché mi sembra più interessante parlare di qualcosa di cui ho una testimonianza diretta e penso anche 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 perché la crisi in ucraina ha in qualche modo dato un esempio interessante anche da un certo punto di vista toccante di come si può relazionarsi a una situazione del genere a livello personale e politico e poi penso che anche questa situazione parlo del della guerra diciamo della guerra totale si inserisce anche molto all'interno di quella che è un po una una condizione costante della società ucraina che è caratterizzata da una da una parte da una sofferenza forte e dall'altra da una da un volere di emancipazione che è qualcosa che poi ha sempre fatto parte della nostra storia della nostra società della nostra cultura e anche diciamo in questo la russia ha avuto anche un suo diciamo ruolo importante non sia ambivalente no non sempre negativo e parlando di come gli artisti artiste reagis reagiscono hanno reagito penso che sia importante dire un'altra cosa che la guerra non è iniziata 24 febbraio un anno fa è iniziata nel 2014 è iniziata così da un po di contesto se c'è qualcuno che non sa bene è iniziata come diretta conseguenza di rivoluzione in piazza maidan che per noi è stato un un tentativo di emancipazione diciamo politica sociale e culturale dal colonialismo imperialismo russo ed è stato anche un modo di rivendicare la propria soverenità sociale politica culturale e quindi c'è da dire che gli artisti in ucraina hanno da tanti anni che vivono diciamo con questa questa guerra che come un fantasma no come dire dietro le spalle quindi è un qualcosa che è stato sempre presente negli ultimi anni è stato presente anche nel lavoro di molti artisti perché molti artisti hanno lavorato su queste tematiche e hanno hanno fatto dei viaggi nella regione di donbass perché dove era il c'era il conflitto e hanno come dire c'è questa nonostante fosse un conflitto locale comunque ha influenzava profondamente no la la società poi soprattutto le persone penso agli artisti che io conosco tanti che provenivano da questa regione che hanno dovuto diciamo ancora prima del 24 febbraio sono diventati rifugiati e questo però non significa che le persone poi in ucraina e fuori non tendevano di dimenticare no di di questa cosa e e quindi si è creato una situazione paradossale in cui da una parte si era abituati però dall'altra quando è successa questa escalation della violenza da parte della russia le persone erano comunque scioccate no perché sono state paralizzate perché nonostante abbiano convissuto con una situazione del genere non se lo aspettavano no lo stesso e questo è importante era importante come dire dire perché penso che anche il modo in cui hanno reagito è dovuto a questo è dovuto al fatto che era una cosa che era in questo come dire era già lano che doveva solo succedere no e per quello che riguarda la come questa cosa abbia influenzato la pratica penso che non ci sia una pratica artistica universale come non ci sia una figura artistica universale io vedo da quello che ho visto da quello che ho potuto osservare ci sono stati delle reazioni molto diverse ci sono stati degli artisti che hanno che non potevano fare assolutamente niente non gli veniva neanche in mente di do di dover fare qualcosa o poter fare qualcosa e ci sono state magari delle altre che hanno trovato nell'arte una un modo per sfogare la rabbia o la paura piuttosto che la speranza e penso che si dipende anche molto dal tipo di linguaggio che l'artista usa perché ad esempio io sto lavorando qui in residenza con elina clitman che un artista che ha una produzione scultore a la produzione scultore a necessità dei spazi necessita una serie di strumenti di materiali che non riusciamo a procurare nemmeno qua perché il comune di milano non c'è dato ancora i soldi per la produzione quindi figuriamoci in ucraina quindi per questo tipologia di produzione è impossibile fare qualcosa mentre se l'artista lavora con il disegno lavora con la pittura ha la possibilità di magari di creare anche una situazione del genere e non solo creare ha la possibilità di incidere perché può fare una immagine fare una foto e di postare questa immagine sui social però quello che penso influenzi di più paradossalmente gli artisti in una situazione del genere è un lato materiale un lato molto pratico e poi preparandomi un po a questa discussione stavo leggendo varie interviste con artisti e leggevo questa intervista con nikita kadhan che è un artista che conosci molto bene che ha trascorso i primi settimane dell'invasione a kiev è rimasto a kiev è stato uno di quelli che non è non ha deciso di spostarsi diciamo dalla parte occidentale più sicura ed era dentro una galleria che era prima era un rifugio c'era un rifugio diventato galleria e poi diventato rifugio e quindi lui è vissuto lì per per dei giorni e lui ha diceva che banalmente non lui non poteva disegnare perché non aveva la carta c'era impossibile comprare la carta le prime settimane per disegnare penso che questo aspetto materiale sia veramente importante sia molto più influenza molto più la pratica di un aspetto di ansia emotiva come come dire che anche come dire presente e però penso che a parte questo credo anche che il modo in cui gli artisti lavorano poi come dire non cambia cioè alla fine l'artista trova un modo sia un artista che non so per me interessante trova sempre il modo di portare avanti alla propria ricerca ovviamente compatti quella che era anche prima compatibilmente con quelle che sono delle condizioni materiali sociali fisiche diciamo di spazi che ha che ha poi ci sono stati anche dei artisti delle artisti che sono rimasti in silenzio perché se vogliamo parlare di una reazione immediata è una cosa che si può fare ma se vogliamo parlare di una riflessione è molto difficile sviluppare o testimonianze diciamo nel senso molto più ampio cioè evidence cosa vuol dire cosa vuol dire quando quando sarà possibile non solo la reazione immediata ma diciamo la riflessione più strutturata che potenzialmente ha la possibilità di diventare una pratica artistica un oggetto una un'opera che potrebbe certo sì io penso che per questo tipo di lavoro come dire sono state fatte delle cose ma per valutare il che il ruolo che queste cose hanno bisogna avere una distanza no sia la mediazione del tempo dello spazio esattamente e quindi penso che bisogna aspettare e dopo aspettando si vedranno cos'è cos'è quella cosa la ma ma allo stesso tempo penso che anche come dire tutti i modi di denunciare violenza siano come dire giusti non c'è uno sbagliato c'è l'arte la pratica artistica è diversa e bella perché varia anche documentare qualcosa piuttosto che fare propaganda o anti propaganda e sono tutti dei modi secondo me per non parlare dell'attivismo che un altro capitolo di cui possiamo parlare tantissimo perché vorrei anche parlare dei diari diciamo del della dimensione documentaria che che diventata molto visibile dopo il 24 di febbraio perché evidentemente la forma di un diario del diario è quella che è stata diciamo raggiungibile che è stata che è stata sempre qua davanti a te e poi tanti artisti ma non solo artisti antropologi antropologi culturologi si intellettuale e comunque si a me piace molto questa questo questo accento che tu hai messo sulla dimensione materiale cioè sull'impatto materiale che la guerra ha avuto sulla produzione degli artisti perché poi si pensa specchio io non so da storico dell'arte penso spesso no alla guerra come condizioni di impossibilità in qualche modo ideologica no perché comunque c'è una situazione c'è c'è un potere che ti impedisce di parlare di esprimerti in realtà la cosa è ancora più radicale cioè quando tu dici punto banalmente l'artista che non può lavorare perché non la carta e allora lì si devono trovare no degli shortcut delle scorciatoie e dei mezzi alternativi o come diceva katia la dimensione è caduto il pongo naturalmente io volevo indossare un pezzo dell'opera di norma jean c'è la dimensione appunto magari performativa cioè come è interessante vedere come c'è interessante insomma è anche scioccato cante no vedere come la guerra una condizione critica comunque porta può portare allo sviluppo di linguaggi nuovi sì un'altra cosa che è importante dire questo proposito e che c'è anche una distinzione diciamo che poi non è sempre come dire dipende dalle persone da quelli che hanno avuto la possibilità di scappare e quelli che hanno avuto quelli che hanno avuto la possibilità volevano farlo e hanno avuto la possibilità quelli che volevano farlo e non avevano la possibilità e quelli che avevano la possibilità non l'hanno fatto e gli artisti ucraini che ci sono diversi e questa cosa anche come dire influenza anche molto no il il poi la produzione perché come dire un conto è andare fuori e poter lavorare e stare e rimanere lì e questa cosa essendo poi subito dopo due tre giorni è stata fatta questa legge che impediva ai uomini gli artisti uomini fondamentalmente di lasciare il paese dai 18 ai 65 anni soprattutto all'inizio non nessuno poteva poteva uscire dopo qualche mese è stato diciamo permesso a sempre se c'era un'istituzione culturale che invitava lo so lo so tu lo sai molto bene lo so molto bene anch'io perché noi giusto tre giorni fa abbiamo fatto venire la vlad plisiecki che un giovanissimo artista ucraino 1999 che ha raggiunto insomma il nostro gruppo di artisti in residenza e comunque ci abbiamo messo due settimane a ottenere questo permesso del ministero della cultura ucraina e stiamo parlando comunque di un di un tempo ci siamo parlando parlando di un tempo passato più di un mese della guerra ci sono stati dei periodi in cui questa cosa non era non era possibile quindi anche questa è una cosa importante da sapere e di nuovo riguarda un aspetto molto pragmatico diciamo della vita piuttosto che questioni ideologiche come dici tu o emotive personali e quindi poi adesso diciamo si sta creando in qualche modo almeno in questa tua esperienza di milano con gli artisti in residenza una situazione in qualche modo di condivisione non con gli artisti e tra gli artisti quindi una situazione in qualche modo di di collettivo questo lo dico un po anche perché avevamo preparato un po di riflessioni e di temi da sottoporre a regime ma appunto non può essere con noi però questa dimensione del collettivo in qualche modo no che adesso un tema molto insomma molto vivo come 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 la vedi ecco come con una pratica di in qualche modo di resistenza attiva e quindi di attivismo oppure come una pratica di sopravvivenza o forse tutte e due le cose non so ma anche qui questa cosa di cui parli non è non è una cosa legata al alla guerra diciamo all'invasione è una cosa che fa parte della società ucraina diciamo da dal 2014 perché comunque il conflitto in donbass ha portato una una proliferazione di una di un movimento di volontariato molto potente poi in generale in un paese dove le istituzioni non funzionano le persone tendono a essere più indipendenti più interprendenti quindi anche più più coesi e a livello diciamo sociale e questa cosa noi abbiamo avuto avuto sempre e anche il insomma il conflitto in donbass e anche il spostamento di insomma di persone di la crisi diciamo di rifugiati interna ha ha fatto sì che ci fosse una un poi mai dan stesso la rivoluzione era un movimento di consolidazione della società quindi questa cosa era già in qualche modo intrinseca alla società questo aspetto riguarda non solo la società riguarda anche la cultura in un sistema diciamo di arte in cui gli artisti vivono in maniera molto precaria perché non c'è mercato perché non ci sono istituzioni pubbliche private gli artisti tendono molto a essere auto organizzarsi autogestirsi ci sono state tutta una serie di diciamo di movimenti che in questo senso hanno attraversato e hanno influenzato tantissimo soprattutto nella nuova generazione degli artisti ucraini dal 2000 quella diciamo di anni 2000 e quindi stiamo parlando di un aspetto che era già era già presente poi chiaramente il 24 febbraio in poi è successo una cosa senza precedenti perché è una situazione talmente estrema che ha fatto sì che non lo so questa cosa avvenisse anche a livello ideologico per esempio penso banalmente al fatto che quelli di destra e quelli di sinistra che sono stati sempre dei fortissimi antagonisti perché poi stiamo parlando anche di un di una società molto più politicizzata no perché alla fine come dire l'ucraina è un paese dove insomma per quello che sono quelle cose che sono accadute il come dire c'è un movimento sociale politico importante quindi anche il fatto che questi questi ideologi queste persone che erano antagoniste sono diventati improvvisamente coesi è un risultato di questa di questa mobilitazione diciamo su su larga scala che poi avveniva a livello ideologico politico ma anche proprio a livello quotidiano no le persone sono diventati subito più più empatici no uno con l'altro poi questa cosa sia ovviamente spostata al di fuori perché poi questa situazione ha creato una comunità dispersa di artiste soprattutto donne appunto che sono diciamo si sono integrate un po' nel contesto europeo internazionale e noi anche la nostra residenza diciamo ha un po raccolto di diciamo i frutti di questa cosa perché il nostro progetto che iniziato a maggio dell'anno scorso poi anche in assenza di punto di budget di produzione è diventato in maniera molto naturale un posto che ha accolto tante persone della comunità ucraina che magari sono venuti per di periodi più lunghi o o più brevi ma comunque hanno attraversato la residenza hanno passato del tempo con noi c'è stato c'è stato dello scambio e per me come come curatore cui pratica tende a sempre a non non tende alla produzione di un oggetto di un di un prodotto di come dire di qualcosa di prestabilito che sia un'opera che sia una mostra ma alla creazione di una situazione diciamo di un modus operandi dove avviene lo scambio anche al di fuori della cornice istituzionale ma anche proprio molto tra la cornice istituzionale e la vita quotidiana per me questo progetto è stata un po una continuazione della mia della mia ricerca quindi al di là di quelli che sono dei contenuti che abbiamo cercato portare all'interno del progetto di residenza per noi per me era sempre un progetto sulla comunità è un progetto che ha dato sia aperto a questa diaspora di persone ucraine rifugiate che come dire se fossero degli orfani no e quindi è molto in questo scambio che che avviene è molto tra di noi al di fuori molto importante e parlando anche di come si possono poi distribuire le risorse cioè questo è un modo per 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 me come curatore per utilizzare una risorsa che ho a disposizione in modo in modo efficace al di là poi di quello che è il appunto il magari la istituzione o il progetto finale o la mostra esatto cioè proprio perché penso che la residenza sia anche una cosa che riguarda molto più il processo che risultato e quindi per me questa cosa ha molto senso stai parlando allora adesso del della residenza del formato della residenza che hai costruito tu la tua pratica anche precedente comunque la residenza ascoltando te capisco che la residenza come un posto così un po in transito in transito che accoglie le persone non chiede non richiede certe cose sembra un formato sembra una cornice istituzionale di cui tanti artisti avevano bisogno ma poi capiamo molto bene che la residenza a milano la fabbrica del vapore eccetera io vorrei chiederti perché dopo il 24 di febbraio io direi aprile maggio quasi dappertutto in europa germania ma più che altro sono state lanciate tante iniziative per sopportare cioè per aiutare per in qualche modo mantenere gli artisti e la comunità artistica ucraina io vorrei chiederti secondo te la comunità la società internazionale europea o internazionale secondo te secondo te quali gesti gesti di sostegno sono veramente importanti rilevanti adesso adesso quando tu puoi sentire dalla tv o non lo so da dalla media l'europa il mondo sono stanchi eccetera eccetera però c'è la comunità abbastanza e piuttosto precaria che ha bisogno di questo sostegno però non non parliamo solo dei gesti molto diritti ma secondo te cosa potrebbe essere davvero il sistema se voi del sostegno e che potrebbe che potrebbe offrire non so la comunità internazionale è un po una questione ambigua secondo me perché da una parte c'è così dicendo in modo in maniera un po cinica un po dispiace che la comunità internazionale che soprattutto appunto essendo molto resta centrica quella europea diciamo si accorge di determinate scene artistiche nel momento in cui succede una catastrofe no questo non è una cosa che è successa solo con ucraina è successa anche in altri tanti altri con tanti altri volte con tanti altri luoghi ma anche perché poi spesso gli artisti e l'arte anche questa capacità un po di prevedere il futuro no quindi sono anche aspetti che poi soprattutto in ucraina dove appunto la guerra c'è da tanti anni sono tutti degli aspetti che c'erano erano già il lavoro di molti artisti lo conteneva già in qualche modo no però non erano un trend no non erano un trend e anche perché la situazione non toccava non cioè non toccava tutti toccava solo noi la russia mentre adesso ha preso questa piega per cui è diventata un come dire un problema un problema comune giustamente quindi da una parte un po dispiace però dall'altra penso che qualsiasi modo per denunciare questa situazione qualsiasi possibilità per per farlo e qualsiasi possibilità offerta da appunto in questo caso però per un contesto diciamo italiano occidentale no sia comunque buona è una cosa che bisogna di cui bisogna bisogna approfittare all'inizio penso che rispetto a questa questione la situazione è un po cambiata nel tempo nel senso che all'inizio è chiaro che c'era bisogno soprattutto di un supporto materiale no e anche io che non ero ancora a milano ero a turino dove gestisco uno spazio una piccola un spazio non prof cia piccolo in realtà non è così piccolo uno spazio non prof anche noi abbiamo fatto degli eventi in cui abbiamo cercato di innanzitutto con consolidare la scena artistica locale attorno alla questione di quello che stava succedendo abbiamo cercato non solo abbiamo raccolto dei soldi e dei beni di prima necessità che poi abbiamo mandato direttamente in ucraina tramite un'associazione ma abbiamo anche cercato di dare voce alle persone che erano lì per proprio far capire cosa stava succedendo realmente no quindi all'inizio la necessità primaria era era questa e il modo in cui la comunità internazionale risposta penso che sia stato anche molto bello però più andiamo avanti più ho la sensazione e questa è una cosa che riguarda persone qua ma riguarda anche noi alla fine perché siamo anche noi come dire quelli che come dire dobbiamo fare uno sforzo di di andare un po più in profondità noi andare non solo di dare dare spazio a cioè come dire il riconoscimento del fatto che l'ucraina esiste è avvenuto ed è venuto pari passo con il fatto che esiste la scena artistica ucraina esiste la cultura e questa cosa c'è perché comunque è venuta una catastrofe però dopo dopo questo viene viene c'è bisogna fare uno step successivo e bisogna anche capire perché è accaduto tutto questo qual è la logica che c'è dietro questo e soprattutto bisogna dare bisogna come dire capire cosa cosa noi abbiamo anche da dire no su questo perché io penso che il questa situazione ha innescato un processo di decolonizzazione molto forte a diciamo a livello livello culturale e quindi che va anche pari passo con un emancipazione e penso che unito a una integrazione di molti molti artisti artisti con o contaminazione con quello che è un po il il tessuto il contesto un po più internazionale io penso che questa cosa può sicuramente può portare a a un a un a dei risultati molto interessanti che vanno come dire che vanno in qualche modo raccolti e indirizzati attraverso delle forme progettuali che non siano solo come dire diamo spazio ma che siano come dire un po più 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 riflessive più critiche magari che è una cosa per cui bisogna anche avere una distanza no che magari adesso non almeno le persone all'interno non ce l'hanno però magari le persone da fuori invece invece sì quindi rispondendo a questa domanda penso che bisogna andare sempre verso questo genere di cose piuttosto che insomma dare degli aiuti che sono diciamo più si più immediati ma magari poi sono anche più rimangono un po più sulla superficie ecco non so come dire io vedo che mentre tu parlavi katia mi ha giustamente passato il microfono perché hai un po anticipato un un tema parte che poi vorrei che magari qualcuno ha degli interventi o delle cose sono delle curiosità le esprimesse ovviamente però anticipato hai anticipato un po un tema che noi abbiamo parlando tra di noi chiamato la domanda scomoda perché a un certo punto bisogna anche fare le domande scomode non sempre essere carini no per cui è una domanda che può anche ricevere una risposta no appunto ma la domanda un po scomoda è un po scivolosa è proprio legata al fatto quando tu dicevi la gente si aspetta che tu rifletta necessariamente sulla guerra perché se un artista ucraino questa cosa sta in qualche modo diventando un trend cioè allora noi sappiamo che voglio dire fino a pochi decenni fa fino a pochi anni fa in fondo una condizione di impossibilità per gli artisti era semplicemente il fatto di essere una donna di essere una persona queer o transgender di essere un people of color no adesso paradossalmente questa situazione si è ribaltata per cui dopo la biennale di venezia tutte le gallerie fanno mostre di sole donne si riscoprono le artiste donne quindi è diventato come un plus no allora la domanda punto un po delicata è tutto pensi che possa in qualche modo come dire esserci una particolare attenzione mediatica critica da parte del sistema che sappiamo digerisce tutto no e fagocita tutto sul sul fatto che allora sei un artista ucraino sei un artista che è scappato dalla guerra sei interessante solo per quello cioè non so se mi sono spiegato ma penso che appunto c'è stata già una attenzione mediatica nel 2014 io me lo ricordo bene perché comunque ero mi trovavo qua insomma è stato un momento in cui già si vedeva come è cambiato un po l'atteggiamento perché le persone hanno iniziato a conoscere di più insomma quello che stava succedendo e quindi avevano un interesse una curiosità anche genuina per questa cosa poi ovviamente questa cosa è scesa come come succede spesso e non lo so io penso che non è la questione e non è come dire cosa fanno gli altri ma è quello come tu come tu reagisci a questa cosa c'è come tu alla fine è una questione molto individuale secondo me ognuno di noi parlo noi ucraini persone diciamo che fanno parte della comunità come noi sfruttiamo sfruttiamo forse la parola sbagliata però come noi usiamo reagiamo a questa opportunità che ci viene data io penso che questa sia una cosa che sono le persone si meritano anche per quello che hanno dimostrato in in quei in questo in questo periodo il coraggio banalmente la non so la insomma la voglia di vivere la resistenza e quindi è normale che gli venga dato uno spazio e di attenzione e di riflessione poi come come usare questo spazio sta poi ognuno di noi decidere poi chiaro che io come curatore ho delle mie preferenze personali basate su approccio concettuale piuttosto che un gusto estetico come a me interessa di più come gli artisti si relazionano a questa situazione faccio un esempio io sto lavorando qui in residenza con quest'artista che ho già citato alina cleitman che come dire con quale ci siamo confrontati molto su qual è il senso politico di quello quello che facciamo e la risposta che ci siamo dati era quella di semplicemente fissare o non so come dire o documentare per preservare un senso del tempo un senso è un sentimento del tempo e lei ha iniziato questa durante la residenza questa produzione nuova in cui lei ha utilizzato degli oggetti di uso quotidiano che sono oggetti che lei è andata fisicamente in ucraina a prendere è entrata nelle case delle persone i territori che sono stati occupati dalla russia e poi liberati dal dall'ucraina e che sono dei bicchieri sciolti sono di dei delle posate piuttosto che sono dei vetri di delle macchine bombardate che poi ha portato qui in italia nel suo studio a milano e ha iniziato a inglobare questi oggetti dentro le sculture facendo nel modo tale che le sculture che poi hanno una sua anche poi insomma formalizzazione poi estetica diventassero una testimonianza tangibile della violenza no del di tutta la di tutta la forza e di tutta la tragicità della violenza non solo a livello metaforico a livello materico e quindi è stato un po un atto di assimilazione del 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 trauma della guerra dell'esperienza della guerra che poi ha avuto anche poi questo viaggio che è stato fatto tra l'altro anche d'estate quando la situazione ancora molto più più drammatica e ha iniziato a fare questa produzione di sculture per me questo è un bellissimo modo di relazionarsi a questa situazione perché io penso fondamentalmente penso che il ruolo dell'arte sia un po quello di dire le cose che conosciamo già però facendolo in modo in cui solo l'arte può farlo le zone nuove i territori nuovi nel senso cioè come nel modo o nella dimensione simbolica ma volevo anche dire che rispondendo alla domanda precedente tu hai detto davvero per me le parole molto importanti che c'è bisogno anche della riflessione delle riflessioni magari mediata della riflessione che non può succedere adesso qui adesso però succederà e se un artista ce l'ha come diciamo non il compito ma una prospettiva secondo me cambia il discorso cambia il discorso perché con ale anche abbiamo abbiamo parlato un po per esempio parlando del dell'arte lebanese allora tutta la scena è praticamente è stata dritte è stata cresciuta dal fatto che tutti loro hanno avuto un'esperienza diretta immediata o mediata della guerra perché anche la guerra in lebanon dura già da 1964 allora se solo adesso ricordiamo i nomi così sulla superficie degli artisti lebanesi già simon fatale tele adnan avali tratte lorenza bohamdan cioè tutti loro che tanti di loro sono partiti anche per cento direi però l'esperienza l'esperienza il focus del linguaggio artistico è lì cioè comunque sì domande domande volevo chiederti se ai contatti con artisti che invece sono sul fronte e che tipo di di produzione se mai esiste la possibilità di avere una produzione essendo sul fronte grazie si queste domande riguarda più il tema dell'attivismo che quando abbiamo toccato ma che appunto ha avuto un rollo importantissimo in in tutto questo diciamo che io conosco personalmente alcuni artisti che sono arrolati e fanno parte del del deserto che è un ragazzo che è stato un artista è un artista ha studiato all'accademia di kiev praticamente ha vissuto quattro mesi a mariupol è uscito con il diario e questo diario già per sé è un oggetto artistico sì conosco diciamo alcune alcuni artisti che un po per scelta un po per per caso un po' scelta un po per non scelta un po per caso hanno deciso di insomma di hanno fatto questa scelta per quello che mi riguarda tutti bene e in questo momento ma però conosco più quelli che si sono iscritti alla non esercito ma stella barona che sarebbe la si guardia civile e però non per quello che riguarda la produzione non per quello che mi riguarda non so niente non penso che qualcuno di loro se avete fanno qualcosa ma non 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 sono diciamo a conoscenza di questa anche perché poi loro cioè non è che poi poi postare le foto su instagram momento in cui quindi magari ci sono persone più intime che sanno cosa fanno ma ma no però sì diciamo che appunto ci sono state subito un tot di persone che hanno o subito col tempo che hanno fatto questa questa scelta mentre altri hanno cercato insomma di aiutare in modo diverso parlando diciamo conosco molti artisti che hanno iniziato a fare dell'attivismo che soprattutto quello che riguarda la raccolta di dei soldi dei begni di necessità che comunque è diventato una cosa una cosa urgente e che insomma stando lì hanno si sono diciamo messi un po messi un po a disposizione ecco da questo anche in questo di questo senso qua poi la cosa interessante anche che avrei voluto dire è anche come è cambiato il relazione tra il centro e periferia no prima chi era l'unica scena artistica vera e propria essendo comunque la cultura e l'arte contemporanea in ucraina molto centralizzati mentre con questa situazione con il conf con l'invasione mente anche senza volerlo molte persone si sono spostate al v e il vif è diventato un po una nuova capitale insomma culturale artistica e lì e questo è proprio fa capire come in realtà è questo anche confine o questo questo concetto periferia centro è molto labile può cambiare in qualsiasi forse anche fictizio anche fictizio in un certo senso no e lì ci sono state anche non solo dei delle attività diciamo che erano legate a le forme di appunto di 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 sussistenza ma c'è una c'è stata anche una proliferazione comunque di 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 una vita di vita culturale di artistica ovviamente tenendo poi in considerazione quello che è la situazione però c'è stata creata una situazione per cui determinati rituali culturali comunque venivano performati nonostante nonostante ciò anche proprio nei primi mesi di conflitto questa era una cosa molto molto interessante queste persone avevano questa questa necessità poi ovviamente col passare del tempo questa cosa è stata possibile anche anche a chi però è veramente sì è veramente interessante vedere come può come le cose possono cambiare nel momento all'altro piace in assoluto che perché tu sei da kharkiv e anche a milano adesso c'è la scena non è che la scena però i rappresentanti del della scena da kharkiv che molto molto cioè molto molto visibile cioè per me ti posso dire perché io mi occupavo abbastanza abbastanza tanto della vanguardia a ucraina cioè comunque il personaggio principale è stato ovviamente vassilir milov comunque mi piace il fatto che adesso sono a milano c'è proprio la rappresentanza di kharkiv così forte in che modo secondo te secondo voi l'arte ucraina sarà influenzata dopo questo evento molto forte e cosa noi ucraini artisti e comunque persone ucraine dobbiamo fare in europa per far vedere veramente come il nostro paese e farlo conoscere non soltanto per quello che diciamo molti comunemente lo descrivono ora il paese dove c'è la guerra o il paese che è vicino alla russia ma per quello che è per la per la nostra arte per quello che siamo noi grazie ma allora diciamo che anche prima della guerra comunque non lo so penso anche a chi pur essendo comunque l'unica punto l'unica scena vera e propria ma con questo successe delle cose molto interessanti negli ultimi anni prima del dell'invasione che secondo me già hanno hanno fatto cambiare molto la prospettiva penso molto banalmente a la l'esplosione della scena musicale che ha portato tantissime persone dall'europa andare andare a chi è fortissima la scena si è veramente forte posso dirlo cioè io sono stato mentre vivevo già io frequentavo e comunque le feste che si facevano chi erano di altissimo livello e secondo me in parte questa cosa era anche dovuta alla guerra perché comunque nel nel club in la generazione post maidan quindi persone diciamo non della mia età ma quelle ancora della generazione più piccola hanno trovato nel nel club in una forma di escapismo anche no da questa da questa da questo conflitto e penso che questa sia stata una cosa estremamente interessante poi possiamo possiamo anche speculare su quanto quanto questa cosa è stata brandizzata se pensiamo banalmente solo al termine new east no che comunque cercava in qualche modo di ritualizzare questa estetica questa estetica posso brandizzare questa estetica post sovietica e lo faceva anche spesso in maniera comunque anche colonialista perché sono tutte un termine che è stato inventato da una rivista inglese però il fatto il fatto rimane il fatto rimane io andavo a kif e incontravo delle persone a caso che conoscevo qua che erano lì per per perché c'era un parque e questa cosa è già secondo me ha ha creato ha creato uno svici poi c'è stata anche un'esplosione di una scena queer che è diventa e anche diventata super vibrante per esempio all'ina cleitman artista che residenza come gestiva uno spazio che si chiamava girelo che è diventato anche un po un punto di riferimento quindi questo per dire che ci sono già iniziate tutta serie di processi che secondo me hanno poi hanno fatto sì che l'ucraina riuscisse in qualche modo a appunto emanciparsi da questa visione un po di essere vittima no di circostanze sociali e politiche e insomma che poi quando hai un vicino di casa così è anche diciamo non è facile e quello che dovrebbe fare non lo so secondo me io penso che essendo una persona che ha deciso un certo momento di andare fuori proprio perché ho bisogno di fare determinate esperienze io penso che la possibilità per artisti che artisti hanno che comunque sono stati anche accolte no dalle istituzioni cioè alla fine possiamo anche essere scettici critici però molti 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 sistema istituzionale occidentale ha risposto e io molti artisti che conosco comunque sono stanno facendo delle residenze o sono stati accolti nei programmi ma anche noi stessi siamo qui perché il comune di milano ci ha proposto fare un progetto di residenza ha messo a disposizione dei spazi ha messo a disposizione delle risorse noi abbiamo stiamo parlando di un progetto che ha cento centomila euro di budget che non è poco per quelli che sono i standard italiani quindi io penso che questa cosa inevitabilmente contribuirà a al come dire a cambiare la visione ma la visione la cam non è che la cambiano l'ucraina ha sempre avuto questo rapporto ambivalente con l'accidente in cui noi avevamo come dire come uno specchio no tutti i guardi e attraverso lo sguardo degli altri definisce te stesso io penso che come dire questa cosa sarà meno nel momento in cui ci sarà possibilità di un confronto più diretto più alla pari però penso che il modo in cui tu viene percepito dagli altri il modo in cui tu percepisci te stesso quindi nel momento in cui cambia l'atteggiamento l'atteggiamento i confronti di te stesso cambierà anche l'atteggiamento degli altri e penso che quello che abbiamo vissuto in questo anno sia quelli che sono la sia quelli che erano fuori come me e quello che noi abbiamo fatto come abbiamo reagito come abbiamo come ci siamo rapportati a questa situazione non può che farsi sentire orgogliosi di noi stessi e questa cosa inevitabilmente porterà a avere una un livello di autostima più alto che è molto importante secondo me anche per poi insomma per la tua pratica no per la tua pratica artistica curatoriale quello che sia quindi penso che dipende tutto soprattutto da noi poi gli altri vengono diciamo un po di conseguenza ecco che ho un amico che lavora che che lavora nella moda su un lavoro per essere brand così che mi diceva che quando è esploso proprio la fase punto dopo il 24 febbraio la fase lui era stato da poco a kiev e lì c'era stata una serie di eventi di moda molto alternativi il cosa pazzeschi per cui lui era sconvolto che c'è come è possibile che in un posto così vivace poi se successa questa cosa stesse succedendo da anni questa cosa quindi è io credo che sia molto vero quello che dici che che sia importante punto raccontare non raccontare appunto la storia del povero paese in guerra che va beh è chiaro che esiste drammaticamente ma di un paese che comunque è vitale e porta avanti dei linguaggi e delle pratiche sociali culturali insomma che è importante conoscere per tutti noi sì ma poi soprattutto stiamo anche parlando di un paese giovane dove la la nuova generazione società diciamo nuove giovani diciamo le persone perché c'è il paese scusami più 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 antico della russia per dire sì sì c'è dove comunque le persone giovani hanno anche molto hanno sempre avuto molto spazio e e secondo me poi anche poi vivendo quello che hanno vissuto secondo me potranno anche sicuramente hanno avranno potranno anche dire di dire dire la sua ma e poi soprattutto è anche un paese con una coscienza sociale politica e vorrei aggiungere forse l'ultima cosa con la tradizione artistica assolutamente fantastica separate e autonoma va bene cioè ringraziamo il momento del ringraziamento ah ah c'è ancora domanda scusa 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 vai in realtà volevo dialogare su questo perché la domanda che avevo fatto a Ruslana mi presento sono sono tutti ucraini e stiamo mettendo in piedi adesso un'associazione di giovani ucraini e qui in italia milano soprattutto infatti una cosa che volevamo fare è proprio far conoscere questa noi abbiamo come il moto ucrainovo cioè proprio ucrainova gente ucrainovo cioè vai quello che abbiamo come avevi descritto prima sviluppato in ucraina dal 2014 questo ucraina come il paese è sconosciuto abbastanza sconosciuto all'estero e soprattutto al mio avviso in italia e quindi ogni tanto ci siamo domandanti facciamo questa domanda a se stessi cosa e come possiamo fare in montare in modo tale che tutto quello che avete raccontato e quello che conosciamo noi ucraina come conosciamo noi noi giovani viene conosciuta anche all'estero e infatti di specie parliamo proprio di milano e italia perché è proprio quello che ci interessa in primis diciamo che ma penso di aver già risposto io come dire ognuno fa quello che fa io faccio il curatore mi occupo di arte quello che sento di molto veramente io gestisco questo spazio a torino del 2015 io non ho mai pensato di non è che non ho mai pensato però non ho mai fatto una mostra di di un artista ucraino o di un progetto collettivo perché comunque non ne sentivo il bisogno e forse non avevo neanche tanta voglia sinceramente invece adesso voglia sì perché comunque non solo perché sento di doverlo fare ma perché comunque anche a me a me a me a me stesso si sono aperti dei lati della mia cultura che 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 io non conoscevo che alla fine come dire essere ucraini vuol dire sempre vivere almeno fino a una certa età vivevo con questa comunque confusione totale in cui non capivo ma io sono nato a kharkiv che 40 km con la russia in famiglia ho sempre parlato russo andavo in una scuola dove le materie venivano insegnate in ucraina ma le maestre non volevano farlo si rifiutavano di farlo cioè tutto come dire tutte le persone tutto il contesto in cui io crescevo era contro l'ucraina però io per qualche per qualche motivo a me mi piaceva no tutto quello che c'è tutto quello che per me è rappresentato che mi piaceva mi piaceva la lingua mi piaceva la cultura mi piaceva non so la poesia l'arte c'è un sacco di cose e quindi però non capivo veramente ma chi ero chi ero io sono ucraino sono russo cioè bisogna definire questa cosa non bisogna definire io l'ho capito come tante altre persone della mia generazione quando ce l'ho capito attraverso non quando ho capito non quello che volevo essere ma quello che volevo non essere perché l'identità è un qualcosa secondo me è un costrutto oggi che che non è cioè non è quello che tu vuoi ma è quello che tu non vuoi e secondo me è un costrutto che viene più e più che viene diciamo costruito più negativo no cioè io non vuole ciò per dire tutte le persone che hanno fatto parte di quel movimento sociale della rivoluzione non volevano essere cioè non volevano essere con la russia perché la russia rappresentava un certo tipo di discorsi che a noi erano in qualche modo però erano assolutamente alieni quindi non sapevi cosa volevi essere ma sapevi che non volevi essere quella cosa la e quindi di conseguenza sceglievi una un'altra strada che appunto quella che poi è filo occidentale ma perché comunque quelle cose la sono diciamo anche associate a alla democrazia e insomma tutte cose che comunque sono diciamo stati sono sviluppati in occidente quindi cioè io l'ho capito in quel momento lì e così anche quando iniziate la l'invasione ho capito altre cose che però come dire mi hanno permesso di andare un po più in profondità di me stesso anche di quello che è appunto anche il tutto il l'apparato no diciamo e quindi cioè secondo me bisogna semplicemente continuare a esplorare e capire come tu puoi in qualche modo appunto essendo curatore dare spazio a a qualcosa che che come dire è interessante bello e figo non è perché è tuo ma perché perché lo è perché comunque è frutto di una di una serie di non so situazioni che comunque lo portano essere così com'è quindi questo volevo ringraziare serghi per una le risposte molto ampi e molto diciamo profonde non so e poi questa questa cosa mi è piaciuta moltissimo su la risposta in vena scultore che bisogna tagliare per da qualcosa per ricavare la sua identità quindi mi è piaciuta moltissimo bellissima grazie le mie e più riflessione e non so nemmeno a chi rivolgere questa domanda perché è dentro di me e non so a chi a chi rivolgere questa domanda qui a milano c'è il consolato polacco e a volte fanno questi installazioni c'è questo pannello dove ci sono esposti i disegni dei bambini polacchi durante la seconda guerra mondiale e nello stesso pannello ci sono anche disegni diciamo dei bambini ucraini sulla guerra che c'è in corso contro la federazione russa quindi contro questa invasione e la cosa che mi ha colpito moltissimo sono i poli vuoti quindi la cosa quando guardi quindi i disegni sono più o meno uguali nel 44 43 45 e quelli di adesso ma i poli vuoti anche quelli sono uguali la mia domanda e soprattutto perché prima abbiamo parlato a quei artisti al fronte quella arte che non ci sarà più i poli vuoti quelle mostre non fatte come possiamo ricordare come possiamo fare perché l'arte ucraina è fatta anche di questo quindi mostre non fatte perché un artista si alza e dice qui mia casa e da artista diventa un soldato quindi questa scelta che fa un un artista come possiamo diciamo dare questo questo spazio a loro quindi non so a chi rivolgere questa domanda ma a me secondo secondo me che rispondo io da storica dell'arte perché ci sono state tante guerre ci sono stati tanti artisti che sono andati al fronte e ovviamente spesso non è una cosa che vedi in diretta no durante il momento in cui l'artista al fronte però sono sono come dire risultati che poi emergono nel tempo ancora ieri è stato pubblicato sono stati pubblicati dei diari di carlo emilio gadda durante la guerra che sono che sono stati editati dopo decine decine di anni e quindi c'è tutta una parte che vedremo sicuramente più avanti è tutta una parte poi che ha a fare invece con la memorializzazione che però auspichiamo che non sia di natura monumentale ma che sia di natura alternativa e che in qualche modo sappia trarre frutto dalle esperienze delle persone e da come dire tutto il tessuto sociale e di memoria che che la guerra ha portato però di sicuro io anche se non lo vediamo ora come dire sono sono cose che emergeranno rimarranno anche pagine bianche questo questo necessariamente certo rimarranno anche voragini più che pagine grazie grazie tantissimo a tutti buona sera grazie davvero grazie a tutti grazie a tutti